I titoli di oggi, Sergio Mattarella visto da Fabio Martini, la rivalutazione delle pensioni, la carenza dei medici, ci ritroviamo dopo la pubblicità. Essere ascoltati, trovare vicinanza, difesa dei tuoi diritti, l'assistenza di professionisti in grado di risolvere i tuoi problemi. SPI CGL, ogni giorno a tua disposizione, nelle sedi in tutta la provincia e in particolare in questo momento anche con la modalità telefonica. SPI CGL, l'ascolto, una risposta. Ben ritrovati con l'informazione del sindacato di pensionati della CGL di Belluno. Il 3 febbraio scade il mandato del dodicesimo capo dello Stato della storia repubblicana. Per rivivere i punti salienti di questo setennato in cui Sergio Mattarella è stato il presidente della Repubblica, utilizziamo l'analisi di Fabio Martini, tratta da Libera Età. Il 25 aprile 2020 rispettavamo tutti noi cittadini la clausura domestica più lunga della nostra storia e quel giorno, 75esimo anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rese protagonista di un evento ricco di suggestioni. Arrivò in piazza Venezia, completamente deserta, salì le scale che lo portavano al milito ignoto in perfetta solitudine. E quella salita nel deserto, circostante, contribuì a trasmettere l'immagine di un capo dello Stato che nella solitudine interpretava il suo essere al di sopra delle parti. Quel messaggio visivo corrispondeva al senso più profondo della presidenza Mattarella, riuscire in sette anni a essere un garante per tutti. Un esempio in una stagione politica segnata da una faziosità pervasiva e contagiosa. Un presidente mai interventista, ma neppure notarile. Semmai attento alla persuasione in nome di principi condivisi. Una persuasione spesso prudente, in particolare nei rapporti con la magistratura e le sue degenerazioni, ma sempre improntata all'equidistanza. Dentro il palazzo, le decisioni politiche che hanno segnato nel profondo la sua presidenza riguardano i due poteri più importanti che la Costituzione affida al capo dello Stato. Lo scioglimento delle camere e la scelta del presidente del Consiglio e dei suoi ministri. Sergio Mattarella è stato eletto capo dello Stato il 31 gennaio 2015 con 665 voti. Personalità adamantina con un curriculum cattolico-democratico gradito a sinistra. Da ministro democristiano si era dimesso nel 1990 dal governo Andreotti per protesta contro una legge sull'emittenza considerata favorevole a Berlusconi. È poi stato vicepresidente del Consiglio nel governo D'Alema. L'aura di rispetto attorno a Mattarella deriva da una tragica vicenda familiare. Sergio è il fratello di Pier Santi Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 davanti al portone di casa. Lo stile della sua presidenza è una pressione morale spesso sussurrata come quella esercitata rispetto ai decreti sicurezza varati dal primo governo Conte. Grande equilibrio ha dimostrato nella fase calda dello scandalo del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è presidente, preferendo affidare il suo pensiero a un comunicato stampa. Prudenza anche nel dopo elezioni del 2018. Dopo aver prolungato a lungo la fase di non governo, il 27 maggio, davanti alla lista dei ministri presentati da Conte, Mattarella aveva esercitato il suo potere di veto sulla scelta di Paolo Savona per il Ministero dell'Economia. I 5 Stelle avevano preannunciato di voler attivare il procedimento di accusa nei confronti del presidente. Una bestemmia costituzionale subito ritirata. Mattarella, un presidente con una notevole capacità di calibrare le parole, esemplare la reazione rispetto al grave assalto alla CGL da parte dei Novax fascisti. Il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Il massimo del suo potere il presidente lo ha esercitato con una decisione destinata a restare nella storia. Tra il 2020 e il 2021 la coalizione giallo-rossa aveva perso la maggioranza al Senato per la dissociazione di Italia viva. Mattarella affida l'incarico all'ec-presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. L'ultima lezione del presidente è il no ad un secondo mandato. La rivalutazione delle pensioni. Quest'anno torna in vigore il sistema di rivalutazione introdotto da Prodi dieci anni fa e poi sospeso dal governo Monti. Da questo mese aumentano gli importi per effetto della rivalutazione annuale a parziale risarcimento dell'inflazione registrata nel 2021. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre stabilisce che la percentuale di aumento è dell'1,7%. Ma la buona notizia è un'altra, e cioè che da quest'anno viene reintrodotto il meccanismo di rivalutazione originario che funziona per fasce d'importo. In questo modo tutte le pensioni sono tutelate al 100% fino a 2097 euro. Gli aumenti derivati da questi provvedimenti purtroppo non permetteranno di recuperare tutto quello che l'inflazione ci sta portando via. Per garantire il potere d'acquisto è importante una adeguata ripartizione dei tagli fiscali che metta a riparo salari e pensioni, ciò che è avvenuto solo in parte con l'ultima finanziaria. È giusto quindi continuare a batterci con il sindacato per una distribuzione del carico fiscale in favore di quelli che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo, e cioè lavoratori dipendenti e pensionati. Chi ci curerà nei prossimi anni? La mappa di medici di famiglia mostra un incessante aumento dei posti vacanti in diverse regioni. Le lacune del servizio sanitario di base sono emerse con drammaticità con l'emergenza Covid che, per citare un caso, ha lasciato senza assistenza quasi 80.000 anziani nella sola Milano durante la prima ondata. Se il presente è problematico, il futuro sembra ancora più grave. Se in Italia ci sono pochi medici, a Belluno ce ne sono ancora meno. La politica del numero chiuso nelle università solo in parte può giustificare questa carenza. La nostra provincia sembra non essere attrattiva per i giovani medici alla ricerca del primo impiego e questo forse per motivi ambientali o per mancanza di prospettive di carriera future. La pandemia Covid ha poi fatto emergere problemi che erano già noti da tempo. Per i medici di base, plus orari e sovraccarico di pazienti, in molti casi ben oltre lo standard dei 1.500 assistiti. Anche nelle strutture ospedaliere sono segnalati disagi per mancanza di personale nei pronti soccorsi a Belluno, Agordo, Pieve. Soffrono pure i reparti di radiologia, urologia e pediatria all'ospedale San Martino. Il dibattito sul tema dovrà rimanere aperto perché una cosa è certa, il sistema sanitario deve cambiare. Non possiamo in questa rubrica dedicata all'Europa non parlare di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo. Sassoli è stato il secondo presidente italiano del Parlamento europeo da quando l'Assemblea di Strasburgo è stata eletta a suffragio universale. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni. L'impegno di Sassoli è stato costante e fervido, il suo pensiero la politica come servizio per i cittadini. Il suo principale impegno da parlamentare europeo e presidente del PIE è stato quello di ravvicinare le istituzioni europee e i cittadini, cioè di costruire un legame, di dare dignità all'istituzione Parlamento europeo. Sassoli era un nativo democratico ed ha cercato sempre di rappresentare questa identità nuova al Paese. Credeva fortemente nell'allargamento del fronte progressista, anche su basi nuove, politiche, culturali e sociali. La sua scomparsa ha colpito profondamente l'Italia e l'Europa intera. I vaccini e i filosofi Ormai è evidente come l'epidemia da Covid abbia avuto un drastico peggioramento ed è a tutti chiaro come i vaccini siano l'arma più efficace per contenerne i danni. Siamo oramai abituati che una parte della popolazione contesti i vaccini per paura, ignoranza o frustrazione personale. Facciamo però fatica a comprendere come alcuni intellettuali o persone famose si siano fatti paladini in Italia di queste posizioni. Con motivazioni apparentemente rigorose e scientifiche e sfruttando una notorietà acquisita, questi personaggi stanno diffondendo messaggi sciocchi e irresponsabili. E così è sorta la commissione Dupré che include il filosofo Massimo Cacciari, il giurista Ugo Mattei ed esperti in comunicazione come Carlo Freccero. Quello che questi signori vanno affermando ha poco a che vedere con i dati statistici e con quanto riscontrato negli ambienti scientifici e sanitari. Prendere posizioni nette sulla pandemia senza riconoscere la validità dei vaccini è un atto professionalmente sbagliato e socialmente devastante. Oramai è provato che la vaccinazione riduce drasticamente la probabilità di contagiarsi o contagiarsi in modo grave. Negli ultimi mesi del 2021 pensavamo di essere fuori dai pericoli del SARS-CoV-19 e invece siamo ancora ad inizio 2022 in piena pandemia con una variante, la Omicron, che si presenta con un tempo di raddoppio di 72 ore contro il tempo della Delta che raddoppia in 10 giorni. E stiamo vivendo una forza ondata di nuove infezioni. È vero, senza vaccini un anno fa si stava peggio, ma ora dobbiamo affrontare la recrudescenza della Delta e la velocità di Omicron. L'obbligo vaccinale per gli over 50 e l'obbligo del Green Pass per tutti gli esercizi esclusi in negozi di genere alimentari sono misure severe, ma sono severe proprio per metterci in sicurezza. Il pensiero dello SPI è rivolto come da sempre agli ospiti delle case di riposo che stanno affrontando ancora periodi vissuti in solitudine, senza il conforto frequente della vicinanza dei propri cari. Il costante aumento dei contagi e dei ricoveri ha indotto la Regione a sospendere parte della sanità ordinaria in tutte le strutture ospedaliere del Veneto. E questo non può che suscitare preoccupazione, visto che sono stati sospesi tutti gli interventi chirurgici non urgenti che prevedano ricovero in terapia intensiva e l'intera attività specialistica ambulatoriale non urgente. Inoltre, la circolare prevede la riduzione dell'attività internistica. Saranno le vaccinazioni che ci porteranno e ci aiuteranno a superare queste misure. Certo è che il sindacato è molto preoccupato. Quest'anno nuovo ci riporta anche alle complesse situazioni politiche. Un Presidente della Repubblica da eleggere e un governo che deve reggere anche la sfida del PNRR. Il piano di ripresa e resilienza che ci deve vedere in un mondo digitalizzato con delle soluzioni efficaci e di contrasto al cambiamento climatico nella innovazione sui trasporti con una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata e una sanità pubblica più vicino alle persone. L'Italia ha conseguito tutti i 51 obiettivi previsti per il 2021 e ha inviato la domanda all'Europa per il pagamento della prima rata da 24,1 miliardi di euro. L'erogazione delle risorse da parte della Commissione Europea avverrà nei prossimi mesi dopo la verifica dei requisiti. La riforma fiscale di cui abbiamo sentito parlare prima la riforma fiscale del governo Draghi regala pochissime soddisfazioni all'86% dei pensionati bellunesi ovvero a coloro che hanno assegni inferiori a 28 mila euro annui. Sono in media 13 euro mensili e proprio su questo siamo stati in piazza Milano contro questa manovra non giusta che vede un vantaggio economico maggiore a chi ha redditi più elevati. Nella legge di bilancia del 2022 siamo riusciti a riportare la perequazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione con il sistema più favorevole. La perequazione è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita all'obiettivo di proteggere il potere d'acquisto delle pensioni mettendole al riparo almeno in parte dall'erosione dovuta all'inflazione. Il decreto ministeriale del 17 novembre ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è pari a 1,7 e dal primo gennaio del 2022. Erano dieci anni che non si applicavano queste procedure. Continuiamo a chiedere con forza l'allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità e la legge sulla non autosufficienza che sappiamo essere in fase di costruzione ma non ancora realizzata. Nel 2022 la CGL e lo SPI andranno a congresso e dunque sarà un anno che ci vedrà impegnati in numerose assemblee territoriali alle quali chiediamo a tutti vivamente di partecipare. Solo con la partecipazione si evidenziano disuguaglianze e criticità nel nostro territorio e poi riusciamo a scorgere nel dibattito il modo e l'impegno per cancellarle. Sentiremo le voci di tutti e raccoglieremo le vostre opinioni. Rispettiamo. Diritti inespressi Anche lo scorso 2021 abbiamo controllato una miriade di obis M su richiesta dei pensionati con pensioni basse. Le pratiche nuove inserite per i trattamenti al minimo e maggiorazione sociale quattordicesime richieste assegni del nucleo familiare detrazioni fiscali e ricostituzioni hanno portato al recupero di 130.720 euro. Chi ha pensioni basse può passare da noi per il controllo dei diritti inespressi nelle sedi di Feltre Belluno Sedico Alpago Agordo Pieve di Cadore Santo Stefano di Cadore e nei nostri punti di assistenza. Termina qui il nostro notiziario grazie di essere stati con noi e appuntamento fra 15 giorni. Vi aspettiamo! A presto! Miau! A presto! Grazie a tutti.